Camminare, pedalare, percorrere in auto o in moto le strade dei cannoni, dei muli e delle trincee. Quelle alte vie che gli ingegneri del genio militare progettarono nei secoli scorsi. E' una delle tante proposte di un turismo attento all'ambiente che il territorio della città metropolitana di Torino sa offrire. Se ne è parlato nello spazio della città metropolitana al Salone del Libro, perché le strade di alta quota sono anche e soprattutto cultura del territorio e dell'ambiente. E' possibile esplorare a piedi, in bicicletto o a cavallo le alte valli grazie a una viabilità di interesse turistico e sportivo che la provincia fino al 2014 e la città metropolitana oggi hanno recuperato e valorizzano. Il Colle delle Finestre è noto agli appassionati di ciclismo di tutto il mondo perché vi è transitato quattro volte il Giro d'Italia. La provinciale 50 del Colle del Nivolè si appresta ad accogliere la Corsa Rosa con l'arrivo del 24 maggio al Lago Serrù. La tappa del Giro che è prevista per il 24 maggio ha impegnato con notevole anticipo il personale della città metropolitana per le operazioni di apertura della strada. Operazioni che comunque sono gestite tutte da personale interno per cui sia con l'uso di mezzi che di cantonieri della città metropolitana. Alcune difficoltà ci sono state, vuoi un po' il tempo che nell'ultima settimana è stato poco clemente quindi con nuova neve fresca che si è accumulata a quella già precedentemente non ancora ben assestata e poi appunto la quantità di neve che c'è. Vista l'apertura anticipata di quest'anno ovviamente sono tutte piccole e grandi cose che sommate creano qualche disagio in più. La strada del Colle della Sietta propone agli appassionati della mountain bike una cavalcata da sestriera al Pian dell'Alpe di Ussò mentre a Dusseglio il cicloturismo ha trovato un'altra delle sue perle nella salita al lago di Malciausia sulla provinciale 32. Tra il 2008 e il 2012 c'è stato un progetto europeo che ha permesso di fare degli interventi sulle strade bianche le strade terrate che noi chiamiamo bianche di buona parte della Val di Susa la Val di Susa è una valle in cui è famosa per la presenza di queste strade bianche strade bianche che sono conosciute non soltanto da noi nelle valli nelle vallate alpine ma anche e soprattutto all'estero infatti ci sono parecchi turisti che la utilizzano che arrivano dalla Germania, dal Belgio, dall'Olanda, dalla Cecoslovacchia durante l'inverno e anche nel tardo autunno non sappiamo mai cosa capita dalla frana, dalla slavina, dalla pioggia a forza e torrenziale che magari con le temperature alte non è neve ma è pioggia che creano dei solchi notevoli alle strade sterrate a volte cadono dei muri, cadono gli attraversamenti stradali e quindi devo dire che l'impegno è sempre molto importante da parte di tutti i nostri colleghi cantonieri lungo la strada del Colle della Sietta esiste pure un edificio che negli anni 50-60 era adibito a casa cantoniera e poi a partire dal 92 è diventato struttura ricettiva sono stati fatti gli interventi dalla provincia di Torino attualmente tal edificio è appunto un rifugio alpino che si chiama Casa Sietta è meta di molti turisti, soprattutto ciclisti che approfittando dei giorni di chiusura mercoledì e sabato nei mesi di luglio e agosto si recano su quella località per fruire dei servizi che dà il rifugio